L'amministrazione comunale Terramana ha dato il via libera al finanziamento da 2,4 milioni di euro necessario per la realizzazione di un impianto di cremazione che verrà costruito in un'area vicino al cimitero di Cartecchio. L'impianto, progettato dalla Team, società in house del comune su incarico dell'amministrazione comunale, sarà il primo in Abruzzo di questo tipo. È un progetto che in realtà, le pensi, doveva essere realizzato nel nostro comune nel 2009, secondo la pianificazione fatta nel 2006. Insomma, un fallimento del passato che abbiamo ereditato, abbiamo dato un cambio di rotta, abbiamo fatto l'affidamento dei servizi cimiteri per 15 anni e quindi dato prospettiva. Abbiamo riaggiornato il piano economico finanziario dell'impianto di cremazione perché ovviamente doveva essere attualizzato rispetto al 2006 e ovviamente le risorse a disposizione da parte degli istituti bancari che consentano di partire. Abbiamo deliberato questa accelerazione per il primo impianto di cremazione in Abruzzo, Teramo con la nuova Team, con i servizi cimiteriali a 15 anni insieme agli altri servizi, con l'impianto di cremazione costituisce un punto di riferimento ovviamente in un ambito, in un settore, in un servizio nel quale occorre migliorare tante situazioni che purtroppo sono rimaste ferme oppure non hanno dato risposte in passato. La pratica per ottenere la somma necessaria per pagare sia i passaggi tecnici sia la realizzazione dell'opera è stata inoltrata all'istituto di credito selezionato dalla Team. Quanto tempo ci vorrà secondo lei per avviare il tutto? Non mi piace dare tempi, abbiamo dato come priorità ovviamente sia al CDA della Team, indirettamente agli istituti bancari a cui abbiamo chiesto il finanziamento. Noi siamo pronti, il progetto è esecutivo già con un piano finanziario definito, quindi si tratta semplicemente di avere l'ok della banca e partire. Abbiamo già fatto tutto, il primo impianto di cremazione all'interno non solo della nostra provincia ma della regione, quindi vogliamo che si realizzi a termine.